Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video voglio annunciarvi una data veramente spettacolare. Scrivetevela, tatuatevela nella mano. Domenica mattina, ore 10, 7 maggio. Non potete assolutissimamente mancare. Voi mi direte, ma cosa? Che è successo? C'è qualche extraterrestre? No! Allora ragazzi, sapete che giricchio per tutta l'Italia, sempre per karate, piacevolmente, gare, stage, mi invitano nelle palestre, eccetera, eccetera. E in tanti già da un po' mi suggeriscono. Massimo, ma perché non fai uno stage? Eh, è una buona idea farlo, ma io ho amici che mi seguono dal nord a sud dell'Italia e trovare un punto di congiunzione è un po' difficile. Allora, pensa, 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 sono arrivato a una conclusione. Allora, se vi siete persi l'ultimo video che ho fatto sul karate online, malissimo, andatevelo a vedere, perché ci siamo vicini. Sì, voglio fare un meeting online, voglio fare un allenamento, ma più che allenamento voglio costruire un insieme, un'amicizia con voi, con quelli che mi seguono, perché io ricevo tantissimi commenti nel bene e nel male, non c'è problema. Io accetto critiche, suggerimenti che mi invitano a vedermi, ma perché qualche volta vengo da te, perché non vieni da me? Diventa, capirete, molto impegnativo, molto difficile spostarsi. Ah, perché non farlo online? Ho pensato, faccio un meeting, faccio una lezione online con tutti voi alla quale potete tutti partecipare. Un meeting molto interessante, non è la classica lezione barbosa che la fanno tutti, avanti e indietro, basket, bla bla bla, lo sapete già, lo sapete anche meglio di me. Voglio fare una lezione particolare sul modo che ho io di pensare e di vedere il karate. Se siete in linea con il mio modo di pensare, potete fare un salto sul mio sito internet www.tempiomasso.it, ma sicuramente se siete i miei follower, che vi siete iscritti al canale, la pensate in fondo in fondo come me. Allora perché non incontrarci? Perché non vederci almeno una volta per provare online? Allora vi lancio la data, 7 maggio, che è una domenica mattina alle ore 10. Io spero che non ci vedete andare a fare la partita di calcetto, scappate dalla moglie, vi collegate, tanto basta poco, non dovete farmi vedere tutta la vostra palestra, basta poco, basta due metri per due, anche in casa, in giardino, in salotto, in bagno, dove volete, vi collegate e vedrete che faremo una lezione di karate molto particolare. Innanzitutto perché ci conosciamo, ci conosciamo meglio ora, non di persone, ma ci conosciamo in online, possiamo partecipare e interagire e vedrete che è una cosa particolare. Io faccio già molte lezioni online da nord a sud in tutta Italia, ho allievi che mi seguono felicissimi, ho pensato perché non farla con tutti, aprirla a tutti, almeno una volta, totalmente, chiaramente gratuita e sarebbe una bella, cioè è sicuramente una bella iniziativa per parlare di karate a 360 gradi, non solo shodotan, come quasi tutta la maggior parte d'Italia fa, ma anche in altre cose un po' particolari che non vi voglio anticipare. Quindi ragazzi vi lascio il mio numero, al quale mi potete contattare whatsapp, io poi vi manderò un link e poi eccoci qua, ci colleghiamo e sicuramente passeremo un'ora, un'ora e mezzo senza problemi qua nel mio dojo al Tempio Massimo in compagnia di me e vedrete che sarà una bellissima lezione. Lasciate i commenti, fatevi vivi, mandatemi un messaggio whatsapp e mi raccomando 7 maggio ore 10. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!